Alcuni pensano appunto di spostare la corsa delle bighe non al Pincio ma d'altrove? No, per me no. Poi non lo so, ognuno è libero di fare quello che vuole, però per me no, perché questo è tutto il bello. Le fatto questo, a che serve le bighe allora? Secondo voi, vedendo da turisti, è giusto comunque la location, svolgerla qui nella zona del Pincio? Secondo me sì, è bella, era stata bella, sì sì. A me piace il posto del Pincio, abbiamo un patrimonio che nessun altro qui nei dintorni ha come il nostro. È una location appropriata per svolgere gli eventi? Sì, secondo me sì, l'hanno anche rifatta nuova da poco, quindi sì. Invece per quanto riguarda le nuove panchine che sono state installate, secondo loro sono appropriate? Sì, sono moderne, ci stanno, secondo me sì. Come no, sono buone, sono buone. Quindi non sono troppo moderne per la zona del Pincio? No, sono buonissime, sono buonissime, hanno fatto una cosa bella. Io sono vecchia, non sono moderna, quindi non mi piacciono. Non le piacciono. Però non so se magari alla gioventù potrebbe avere altri gusti, no? Potrebbe piacere. Tra l'antico e il moderno si combinano bene? Secondo me va benissimo fatta qui. È bello, è un evento l'unico che ci rimane, diciamo, quindi uno dei pochi oltre al Carnevale. Perciò io non sono contro, perfettissimo. Bella cosa, bella emozione, è una bella... mi piace la cosa, perfetto. Per l'evento Biro d'Augusto conosce? Ho partecipato a quell'evento, quindi concordo anche su questo. Io sono per gli eventi in generale. State bella, viviamocela! State bella, viviamocela!